e buongiorno a tutti buongiorno Milano iniziamo questo venerdì 17 maggio in compagnia di Lola che è lei perché cosa c'è di diverso Fabio Fabio oggi non ce l'abbiamo e abbiamo deciso di sostituirlo anzi i nostri carissimi ascoltatori hanno deciso di sostituire Fabio e far venire me e Lola perché la puntata di ieri è andata talmente bene che hanno detto ma forse cambiamo un attimino forse 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 chiamiamo l'Elisa con la Lola ma chi è Lola? Lola è lei è la fantastica barboncina la mia compagna di avventure che è qua con noi e ha deciso di venire in diretta questa mattina allora è un po' spiazzata perché non è abituata a fare a svegliarsi soprattutto così presto la sua sveglia è intorno alle 10 del mattino oggi l'abbiamo tirata giù dal letto di corsa siamo venuti qua e iniziamo questa mattinata insieme appunto senza Fabio siamo Elisa e Lola e pronti per questa bellissima giornata abbiamo visto che tra l'altro c'è una giornata di sole questo venerdì inizia con un bellissimo sole e ci accompagnerà spero per tutta la giornata passiamo alla prossima canzone con madame l'eccezione l'eccezione e infatti era un'eccezione che non ci fosse io buongiorno a tutte buongiorno a tutti come state tutto bene allora pensate per sostituirmi per sostituirmi al meglio hanno trovato che cosa un cane ebbene sì la Lola la Lola Elisa brava però la Lola secondo me ha un futuro della radiofonia la sua espressione che ha fatto quando è entrata in studio che ha guardato in giro ha detto ma dove mi avete portato io a casa a dormire bella serena sognando un paradiso di croccantini e di scatolette no invece l'abbiamo portata qua comunque buongiorno a tutti come state 331 78 53 555 il nostro numero di whatsapp a cui potete rispondere alle domande che vi farò durante la puntata ma ricordatevi che non c'è mai una risposta sbagliata quindi non c'è problema non abbiate paura grazie ancora ad Elisa che ha aperto la puntata questa mattina come sempre puntualissima qui con noi anche lei alle 7 la producer che poi un giorno vi spiegherò anche cosa fa la producer ma fa tante cose devo dire che insomma se il programma viene così bene è soprattutto merito spesso della produzione della produce della redazione che insomma si mette a lavorare tutto il giorno tutta la settimana per creare le migliori puntate gli ospiti che vengono qui collegamenti con Tamara Valleo oggi avremo Silvia Gatti che viene qua e torna anche quindi insomma tutte queste relazioni visto che io sono un orso le tiene la bravissima Elisa che avete visto sempre col sorriso pensate io so che il sorriso di Elisa se lo guardate su Milano News lo vedete ma se lo ascoltate su Crystal Radio lo vedete comunque anche alla radio quel sorriso che passa anche dalle onde radio dall'FM 96.2 e dal Dan Plus oppure ricordo sempre anche le app per iOS o Android mattinata come dicevo con tanti appuntamenti avremo anche gli eventi della settimana a cui non vuole andare per me abbiamo tolto anche il condizionale non ne vorrei proprio dove non vuole andare Eribi e poi appunto Silvia Gatti nella seconda parte oggi vi do già un'anticipazione si parlerà anche a me pensate dove mi portano anche a me mi tirano giù in questo vortice dei Ferragnez oggi si parlerà di quello del libro della Lucarelli perché avremo una persona che appunto ha dato una mano a ridare il libro comunque insomma è stato sentito perché è uno che ne sa di crisi basta non dico nient'altro comunque noi dopo appunto parliamo di questo nel frattempo abbiamo i giornali con un bel po' ma tante tante notizie perché vabbè il maltempo la fa da padrona diciamo però insomma per il resto anche i pro palestina chi chiamano pro palestina io direi quelli contro la guerra che forse è più bello ancora che sono accampati anche davanti alla bicocca insomma tante tante cose è arrivato anche il whatsapp di Alberto che dice appunto con una faccia sorpresa un saluto a Elisa e Lola e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano poi dopo così con un senso di colpa scritto anche e salutiamo anche il direttore Fabio buongiorno Alberto buongiorno Alberto aggiunge anche che forse oggi l'ombrello potrebbe non essere necessario ma ci dicono di tenerlo a portata di mano almeno fino a fine mese è vero brevissimo Alberto questa cosa del fine mese però ripeto è due mesi che ci dicono di portarla fino a fine mese io mi ricordo che ad aprile abbiamo letto un articolo intorno al 25 aprile qualche giorno prima forse abbiamo letto un articolo che diceva ma il tempo adesso passa un pochino ma il 25 aprile poi alla fine c'è stato un bel tempo ma attenzione perché fino a fine mese ci sarà brutto tempo ma non c'è scritto fino a fine mese settembre quindi non vorrei capire questo fine mese che fine mese è perché qui sembra sempre come la dieta del lunedì cioè lunedì inizio la dieta quale lunedì però? lunedì dell'angelo del 2028? è quello il problema quindi capiamo un attimino appunto quale sarà il fine mese in cui dovremmo in realtà lasciare l'ombrello a casa se ce l'avete dietro meglio portatevelo oggi non dovrebbe servire ma insomma così non fa mai male tenerselo lì anche se poi si sa che se lo si porta in giro non lo si usa sicuramente lo si lascia da qualche parte in giro Pink Venom, Blackpink, Blackpink un grande gruppo queste sono adesso sono brave le Pink Venom sì sono un gruppo coreano se non sbaglio ne sapete sicuramente meglio voi di me lo sapete meglio voi che ascoltate che magari siete appunto appassionati di K-pop insomma è un gruppo famoso che spacca come dicono i giovani che spacca comunque va bene allora voglio aprire con un articolo che mi ha fatto ridere pensate non l'ho neanche letto l'ho letto solo il titolo e ho detto no così dobbiamo leggerlo pensate quanto lavoro faccio dietro alle notizie che vi do vi chiedo scusa per veramente vi chiedo scusa per questo però dai cioè allora noi diamo notizie praticamente tutto l'anno di situazioni in cui la casa costa troppo gli affitti costano troppo è aumentato tutto è aumentato tutto e quindi la gente scappa da Milano la gente non riesce a stare a Milano la gente non vuole stare a Milano e allora mentre la Lola viene a trovarmi ciao Lola eccomi qua vi leggo questo articolo che fa morire da ridere perché appunto noi parliamo sempre del fatto che le case sono troppo costose a Milano e tutto e allora dove comprano oggi la seconda casa ai milanesi? cioè sto titolo è bellissimo già così è stupendo non comprano la prima pensiamo dove compran la seconda ecco perché anche una pista ciclabile può guidare un investimento immobiliare il maggior numero di compraventi delle case vacanze si registra in Liguria vabbè che novità l'arrivo dell'alta velocità è un'attrattiva un'altra è il cicloturismo in salita Emilia Romagna e la Puglia la Puglia è un bel viaggio andare fino in Puglia per una seconda casa quindi dove comprano appunto la seconda casa ai milanesi? il 41,9% in Liguria l'area più gettonata è la provincia di Genova sia perché i centri come Rapallo, Camogli, Stata Magritta sono quasi un enclave meneghina infatti lì non è così cioè non è che si parla così come è che si parla loro? bene che non sono stato qui a Genova che sono stato a Rapallo tutta la settimana eh non parlano così cioè lì quando vai uè Fede sei di Camogli uè insomma sono di Rapallo cioè parlano così oramai perché sono come noi cioè è veramente un enclave milanese altro che comunque beh ci sono anche però insomma molti altri motivi per cui poter andare invece nella zona di Rapallo, Camogli e Santa Margherita soprattutto perché c'è pensate io li ami io amo i miei colleghi che scrivono queste cose fantastiche per dire per trovare una motivazione la prospettiva anche in prospettiva giusto eh la prospettiva di un collegamento autostradale in via di risoluzione e il treno con l'arrivo dell'alta velocità sì ma è una prospettiva chissà qua questa è come la metropolitana a Baggio ragazzi ve lo dico che è dal 75 che ne parlano cioè qui l'alta velocità chissà quando ci arriva ma soprattutto di quello che mi chiedo è come fa ad andare a alta velocità là che le linee sono schiacciate nelle montagne su e giù non lo so comunque in aumento anche l'interesse per la provincia di Imperia e gli acquisti non arrivano solo dal tag tradizionalmente legato al Ponente cioè le persone che si sono ritirate al lavoro perché Ponente è praticamente la Miami dei milanesi sapete no che in America quando le persone smettono di lavorare vanno non la Miami la Florida scusate si ritirano in Florida ecco il Ponente Ligure è un po' la nostra Florida cioè tutti quelli che vanno in pensione ciappano casa lì e vanci lì a svernare e poi a rimanere lì per la loro pensione ma sembrerebbe che appunto adesso anche le famiglie più giovani dopodiché perché anche la possibilità di fare lo smart working ha aiutato il fatto di poter andare magari qualche giorno in più appunto nella riviera di Ponente questo diciamo che insomma finora la notizia non è che sia proprio delle più eclatanti anzi no la notizia è che c'è ancora gente a Milano che può permettersi la seconda casa ecco questo forse sì ripeto leggiamo praticamente ogni giorno di tutto l'anno almeno una volta di settimana se ci pensate almeno una volta di settimana vi do notizia del rincaro dei prezzi delle case problemi di comprare le case gente che ha messo la tenda davanti al Politecnico perché non sapeva dove andare neanche in affitto e invece oggi sul Corriere di Milano ci chiediamo dove comprano oggi la seconda casa i milanesi e allora qui mi viene spontaneo pensare che a qualcuno di voi sia salita non la carogna peggio cioè che abbia spaccato tutto quando ha salito questo titolo bene vi dico una cosa invece non serve non serve lasciate scorrere fate come se tutto scorresse anzi don't worry be happy Tananai con Tango pensate che è tutta mattina che ce l'ho in testa cioè mi sono svegliato questa mattina tra le palazzine a fuoco e così comunque chissà perché evidentemente perché mangio pesante la sera comunque è arrivato il momento gli eventi della settimana a cui non andrei Eribi buongiorno buongiorno da me dalla mia bellissima voce allergica va bene dai succede sì l'unico giorno di sole che c'è mi sono svegliata così quindi vabbè io già anche ieri che c'era la pioggia mi sono svegliato così quindi insomma comunque volevo dirti una cosa non fare mai più questo scherzo di non aprire tu la trasmissione perché? che è successo? mi ha chiamato mia madre e mi ha detto oh cos'è successo a Fabio che non è in diretta e ho detto dai ho uno scherzo no perché mi sono preoccupato però la notizia è che tua mamma alle 7 del mattino fosse sveglia ma c'è una motivazione perché sveglia perché è strano ma vero esatto esatto non succede mai beata pensione mi viene da dire io personalmente provo solo invidia tua mamma è un'affezionata della sigla finale di Good Morning Milano neanche neanche cioè fa in tempo a sentire la sigla finale di Ambrogio Kurt secondo me funziona così lei si sveglia sì accende l'applicazione perché è avanti e poi si rimette a dormire ah ok ok va bene fa niente fa ascolti va benissimo quindi facciamo da sottofondo va benissimo fa ascolti mi va su mi va su l'indice di ascolti va bene ok tutto posto Elisa sì ok no no va bene comunque Lola top Lola veramente top un'ottima assistente secondo me ok non so perché Elisa ha messo va bene fa niente andiamo avanti comunque ok allora dove stai anche lacrimando cosa succede è una roba ho l'occhio sinistro che è sempre lacrima colpa delle dell'allergia non sono sicuramente commossa ah no allora io inizierei inizierei vai inizia allora intanto arriva il festival del fumetto ah il festival di Sanremo e tra l'altro mi fa ridere perché non è a Milano ma è il parco esposizioni di Novegro beh sì sì però no aspetta attenzione spesso spesso viene fatto spesso che cosa questa roba qui di fumetti viene spesso fatta a Novegro anzi è famoso il parco esposizioni di Novegro per questa roba qua 18-19 di maggio andate divertitevi ci saranno un sacco di nerd e un sacco di puzza di ascelle ma perché ma perché io se penso ai nerd penso a questa cosa va bene non ti dico che va bene resti in casa mezzo nerd ce l'ha in casa quindi mi faccio qualche domanda su che odori ci sono in casa tua vabbè comunque poi ho trovato questo spettacolo un'esposizione personale dell'artista che si chiama La Pupazza ok che mi è piaciuto il titolo il titolo è molto sugo punto La Pupazza bello ho paura dall'11 maggio al 2 giugno allo spazio culturale SC3 Milano in via Scutari 3 dalle 19 c'è esposizione personale della street art La Pupazza non me ne vogliono gli amici di SC3 ma trovi anche dei posti che io non ho mai sentito non so neanche dove è via Scutari però sai dove è Scutari? Scutari lo so in Albania ecco bravo questo è bellissima grazie anche per farci conoscere posti che non conosciamo ho visto poi questo secondo me ne abbiamo già parlato ma fa niente è un evergreen dove io sicuramente non andrò perché secondo me è una delusione l'Asia ho guardato dove è via Scutari dov'è? in fondo dove è in fondo? in fondo dopo Cimiano ah Urca lassù su Palmanova lontanissimo 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 per noi altri ne abbiamo già parlato dell'Asian Street Food Market vero? ok di nuovo via Luigi Nono di nuovo cosa? di nuovo non ci andrò domenica dalle ore 11 andate e lasciate di tutti i vostri soldi stamattina ti ha fatto male l'antistaminico sì penso di sì sarà una giornata difficilissima non riesco di capire io vi dico se state guando Milano News cambiate canale per favore sei venuta fuori la napoletana è stata una giornata se state guando Milano News vi prego cancellate formattate il disco del computer oddio mio che disagio vabbè comunque tu sicuramente ci vorresti andare all'Asian Street Food sì ma io purtroppo non voglio niente ci vado io ok poi è molto succo l'ho già detto Piano City grazie mille anche quest'anno quasi quasi rischiamo di non fare niente con tutta quella pioggia e invece no e invece no vedi un po' forse da oggi oggi tra l'altro venerdì 17 scusate non avevamo dato volevo dire l'ha dato tantissimo che non succedeva Piano City Milano 2024 più di 200 concerti gratis in città prevalentemente in bellissimi cortili chissà che bello vero? da ti piacerebbe secondo me andare? non lo so devo dire che effettivamente no cosa? non ti piacerebbe andare? sai che i mi si chiamano gli eventi diffusi non li amo neanch'io tanto cioè allora secondo me era molto bello all'inizio sì poi si è un po' persa la cosa come tutte le cose è ovvio che è difficile fare degli eventi nuovi in una città che ti richiede eventi nuovi continuamente però non so quante edizioni sono provi ad andare a vedere quante edizioni sono sì dopo lo guardo ti dico solo però che quest'anno di altri venerdì 17 non ne avremo non ne avremo altri venerdì 17 no non ne abbiamo quindi viviamola bene invece nel 2025 ne avremo ben due no sì anche ad aprile cioè scusi anche nel 2026 l'anno scorso ne abbiamo avuti tantissimi sì adesso non lo so non va indietro quindi non so cosa dire ok poi c'è questo evento che mi piaceva tantissimo il titolo bici fili attenzione che te potrebbe interessare aspetta come è che fa bici fili ok per non perdere il filo del discorso domenica 19 maggio chiaramente tutto in bicicletta dal deposito di Trenord di Novate si faranno tre tappe con qualcuno che senso qualcuno che racconterà storie nate sui binari delle ferrovie nord ma questa mi piace davvero quando è che è? domenica puoi andarci gonfiamo le gomme però non so che ora è va bene se non cercheremo su google invece che ascoltare una in radio che ci dovrebbe dire queste cose va bene? va bene io vi do degli spunti sono cose dove io non andrei cioè voi se vi interessa oh bici fili dai scrivi scrivi così ok va bene voglio chiudere con ti dico piano city dal 2011 che c'è urca sono ben 13 anni eh capisci che cosa capisco che forse cosa forse è anche l'ora di smettere ma no perché anzi adesso è nel meglio nel vabbè comunque però qualcuno di voi è mai andato a piano city? non lo so regia voi siete mai stati a piano city una cosa di piano city avete mai fatto una dice no l'altra non sa neanche cos'è un pianoforte ai nostri amici online sai che l'altra l'altra Elisa non sa cos'è un liuto cos'è lo liuto è uno strumento musicale che non è l'aiuta che è un'altra cosa che si suona come? coi piedi no beh volendo uno potrebbe farlo però no ha fiato? anche te ma no perché è una chitarrina è la mamma della chitarra eh ragazzi stiamo calmi sono le 7.41 del mattino che deve essere così cattivi niente volevi chiudere con? volevo chiudere con un bellissimo evento dove tu dovresti assolutamente andare bene che è questo aperitivo gourmet con lettura di fondi di caffè non leggi più i fondi di caffè allora aperitivo gourmet con lettura di fondi di caffè tarocchi stasera venerdì 17 anche io facevo dei fondi di caffè tarocchi nel senso che non erano veri nel mio caso al my comfort food in via Bessa a Rione 18 ma cos'è ma tu trovi dei posti che non esistono e li fanno posta per i tuoi eventi comunque grazie mille io ringrazierò sempre per sempre posso citarlo anche se è il nostro competitor Milano Today e tutti i miei amici di Facebook perché mettono like che parteciperanno a degli eventi che sono pazzeschi sì vabbè volevo volevo ringraziare tutti nonostante tutta la mia commozione oggi sono venuta qui sì infatti sei una commozione celebrale però sì mi si è proprio preso un colpo di notte ma cosa continui a ridere ma è l'antistaminico hai preso le pastiglie giuste non hai preso le pastiglie ho preso l'antistaminico venti minuti fa secondo me mi ha fatto male sì ma non hai preso le pastiglie giuste mi sa e niente volevo salutare allora già che ci siamo uso la radio per un mezzo proprio com'è sì uso uso privato di mezzo pubblico a questo punto saluto mia madre va bene salutiamola salutiamo mia madre ok si chiama madre sì si chiama madre mia madre ok va bene lei sa chi è ok completamente persa oggi l'abbiamo completamente persa non so se nel prossimo ritroveremo il ribbi qui o in collegamento da uno psichiatrico perché è veramente completamente ingestibile questa mattina inizia a prudermi la faccia forse è il caso che io me ne vado come ti pude la faccia eh sì non lo so comunque io ringrazio tutti e chiedi anche scusa mi sta vi chiedo scusa perché non dovevo prendere forse l'antistaminico prima di venire in onda ma è andata così un abbraccio caloroso a tutti gli allergici siamo tanti combattiamo grazie ribi ci vediamo a vedere di prossimo ciao ciao Annalisa Tsunami 7 e 47 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 96.2 FM Dub Plus l'applicazione per iOS e Android il sito internet che sarà di .it oppure il podcast di Good Morning Milano sia su Spotify che su Apple Podcast che su goodmorning.milano.it avete segnato tutto ve le siete registrate ragazzi registratemi questo pezzo così almeno poi dopo track ve lo riascoltate ok va bene fate così così almeno siamo a posto avete tutte le coordinate per seguirci tutte le mattine abbiamo dato un po' di notizie vi ho detto un po' gli eventi della settimana a cui ribi non vuole andare ieri appunto nel Godac Repubblica Milano invece un po' di mal cioè non un po' di maltempo un po' di dati sul grande maltempo invece che ha colpito la città albero cade sui cavi del tram interrotte linee 2.14 e soprattutto mai così tanta pioggia negli ultimi 170 anni l'assessore alla sicurezza Marco Renelli dice servono vasche di contenimento delle acque anche per il Lambro e si va avanti così sventriamo il parco Lambro mi raccomando lo dico adesso allora lo dico oggi venerdì 17 maggio mi raccomando sventriamo il parco Lambro per fare una vasca punto a capo vedremo cosa farete l'emergenza non è ancora finita dice appunto la Repubblica perché in città ieri all'ora di pranzo aveva ricominciato a piovere e quindi l'emergenza è rimasta fino a tardanotte in questo momento ancora comunque i fiumi lombardi sono al limite e non so se avete visto anche in altre parti della Lombardia e in altre parti del nord Italia anche in Veneto c'è Veneto sott'acqua ovviamente questi torrenti che sono come il Seveso o piccoli fiumi o fiumi comunque di portata media come il Sile ad esempio che poi esondano e riempiono le città di tutto quello che si portano a dietro e con tutto quello che sono poi i problemi per una città ad esempio invece grossa come Milano nel poter gestire linee di tram che saltano metropolitane che si allagano sotto passaggi che si allagano perché poi il problema è anche quello e le vasche di contenimento che sono servite sì ma solo per dieci ore perché poi appunto il Seveso è esondato e quindi ha riempito la città verso l'iguarda appunto di acqua questo è stato quello che è stato ieri nel maltempo su Repubblica trovate un po' di articoli che vi raccontano un po' quello che è stato c'è un titolo ad esempio l'ondata di maltempo slalom tra le strade allagate e nel mirino finisce la gestione dei tombini io posso dire che non è solo la gestione dei tombini effettivamente i tombini sono strapieni di roba vi ricercate Simone Lunghi qualche tempo fa ha fatto una pulizia di un tombino davanti alla cattolica ok ha trovato dentro non so quanti milioni mi verrebbe da dire di piccoli coriandoli che avevano fatto praticamente un tappo proprio completo perché giustamente ma perché non ci pensiamo nel senso quando facciamo una cosa le nostre azioni hanno poi la questione azione e reazione ad ogni azione equivale a una reazione le nostre azioni sono ad esempio festeggiare giustamente la laurea la laurea di qualcuno davanti alla cattolica sparare i coriandoli perché è bello l'effetto e poi volete mettere la foto su Instagram cosa non è ma poi quei coriandoli cadono per terra finiscono o spazzati da qualcuno oppure perché per la pioggia il vento comunque finiscono il tombino il tombino si riempie e quando piove poi patatrac ok non è solo un discorso di gestione di chi non cioè ok che devono pulire i tombini pulire le tubature ma il problema grosso è proprio quello cioè quanta roba c'è sotto lì che continuiamo a buttare quanta acqua c'è incanalata che non dovrebbe essere incanalata il Seveso i vecchi navigli alcuni parti dell'olona cioè 70 anni fa aveva senso fare certi lavori adesso forse ha senso farne altri sto parlando di ripetere i navigli? si sto parlando di quello ad esempio sarebbe quello costa tanto? si costa tanto costa tanto anche però pulire le case e fare in modo che la gente non abbia le cantine allagate quindi Bruno Mars leave the open insieme ad Anderson Park alle 7.55 minuti giusto al tempo per dirvi che fra pochissimo c'è il giornale radio e poi torniamo qui perché parliamo ve l'ho detto oggi si parla del libro di Draucarelli dei Ferragni ma lo facciamo insieme a Silvia Gatti che ha portato un ospite che è già stato qui ma non vi dico nulla fra pochi minuti qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM questo è Good Morning Milano Fior d'Aliso non voglio mica la luna questo finale che neanche è il year on medium cioè io lo dico sempre ogni volta che la sento ma comunque è arrivato il momento della nostra ospite Silvia Gatti anzi è arrivata il momento è arrivato il momento della nostra super radio gattona mamma mia sono il gatto sul tetto che ascolta no ma come hai la sigla la faccia alla radio ah sei tu il direttore niente non hai i baffi no i baffi non c'è se mi vedi da vicino un po' sono proprio blu sono verdi una gioia lasciamela Silvia Gatti buongiorno a tutte a tutti buongiorno dire grazie sempre per la sigla di cuore veramente di cuore non sei una bimba degli anni 80 anche tu sì però volevo avere una credibilità radiofanica che tu mi hai completamente sciupata io pagherei pagherei per avere una sigla così no io non ti pago allora oggi tutto bene con l'acqua i gommoni a Milano abbastanza qua c'è andata ancora bene dall'altra parte a nord è stato un disastro Lambro dalla parte di Ambrate Buono dalla parte di Ponte Lambro un disastro fa anche un po' freddino viene quasi voglia di Pandoro oh che che gancio mamma mia che gancio perché oggi abbiamo nuovamente per la seconda volta ospite Alberto Mattia ci sono gli applausi ciao ciao a tutti Alberto Mattia buongiorno Alberto buongiorno a voi sappiamo che ha fatto diciamo ha avuto una collaborazione importante con Selvaggia Lucarelli in quanto nel nuovo libro appena uscito il vaso di Pandoro ascesa e caduta dei Ferragnez ha diciamo contribuito ha scritto delle pagine molto importanti c'è il suo nome proprio stampato sul libro il tuo c'è no ma me l'ha regalato il libro tiè ecco c'era scritto a penna con una dedica con una dedica stellino capisci e poi parleremo anche della presentazione del libro che ci sarà a Milano ho letto dalle stories di Selvaggia che è stata aggiunta addirittura a una data in cui parlerete forse però di altro cioè è diviso in due la presentazione no allora sicuramente la data del 23 maggio in origine deve essere la prima presentazione poi appunto Selvaggia ci ha dato l'onore di farla con noi parlando anche di crisis management al Cinema Gloria ne farà sicuramente altre presumo tante altre in Italia allora in Italia sicuramente ma anche a Milano ne farà altre in Milano sicuramente sì anche perché nonostante al cinema ci saranno quasi 300 posti sono andati via in 40 minuti no no in 40 minuti proprio subito polverizzati quindi sicuramente vogliamo dire che tutte queste persone evidentemente e anche insomma questo libro che è ai primi posti forse su che io sappia è primo non è non è solo gossip perché la gente sente Ferragnez Fedez Chiara Ferragni e dice ma basta finisce in quello scaffale e invece Alberto è qui per spiegarci perché non deve essere vista così questa cosa ma allora innanzitutto ovviamente non è solo un libro di gossip e aggiungo che non è un libro sui Ferragnez secondo me secondo me il vero succo io che ho avuto la fortuna di leggerlo posto che adesso è uscito da qualche giorno in realtà da tre giorni quindi tanti l'hanno già letto e qualcuno l'ha già anche finito ho fatto anche questo piccolo sondaggio su sulle mie pagine Instagram e però diciamo quando l'ho letto ho capito subito che innanzitutto del Pandorogate non se ne parla fino a metà abbondante quindi quindi clickbaiting selvaggia però il problema è proprio questo il marketing e il contromarketing uno appunto prende il libro pensa che parla solo di Ferragnez ovviamente la copertina insomma non è che ti fa pensare anche a quello un pochino invece c'è molto di più questa è la cosa interessante diciamo che secondo me potrebbe essere considerato un trattato sui Ferragnez perché poi effettivamente si parla di Chiara Ferragni di Fedez fin dall'inizio del libro non è che non se ne parli anzi però secondo me è quasi un espediente narrativo perché è più secondo me veramente un saggio sul funzionamento della società moderna sul funzionamento dei social io ho contribuito in minima parte però la verità nel senso che il mio contributo sono cinque pagine su un lavoro di inchiesta giornalistica che complessivamente sono 249 pagine di libro e ho contribuito sul tema della gestione della crisi che come sapete è la mia competenza anche professionale diciamo che i ferragni sono il caso sbelli è la scintilla che fa partire tutto un ragionamento infatti è la case storia come si dice in questo caso come è stato gestito anche tutto quello che c'è dietro Chiara Ferragni addirittura c'è gente che scusami il microfono c'è gente che dice che lei non sapesse quasi nulla di quello che succedeva nella sua società nelle sue società addirittura si parla anche di ex dipendenti che hanno testimoniato con nomi ovviamente falsi lei si firmava i contratti alla fine però c'erano delle situazioni per cui sembra che lei insomma non fosse può essere possibile una cosa del genere allora è plausibile è plausibile mi fido poi dell'inchiesta di Selvaggia che avendo scritto cose di questo genere in un libro immagino che abbia tenuto le fonti è un'inchiesta non è sentito dire o la sua antipatia no assolutamente è diverso l'antipatia che può avere verso Chiara o Federico insomma però è una giornalista secondo me non c'è neanche l'antipatia nel senso che se uno legge il libro capisce che un lavoro di questo tipo l'avrebbe dovuto fare la stampa italiana diciamo in generale da subito sul fenomeno che era Ferragni e l'avrebbe anche aiutata perché probabilmente questa non doveva neanche essere una crisi io ho scritto questo contributo quando il libro era già finito non l'avevo letto quando ovviamente Selvaggia mi ha fatto cinque domande io ho risposto le ho mandato il testo scritto poi lei l'ha inserito in quello che era il libro che lei già stava scrivendo io poi l'ho letto quando era fatta e finito e mi sono reso conto perché molte cose non le sapevo neanche io evidentemente non avendo fatto io l'inchiesta che in realtà tutto il contenuto del libro richiama concetti che non sono solo di crisis management ma anche di gestione del rischio gestione della resilienza organizzativa se vi ricordate l'ultima volta che ero venuto qua avevo parlato un po' di tutte queste tematiche e diciamo questo poteva essere un banalissimo incidente tra virgolette di scarsa consapevolezza che non è stato gestito che poi è montato e che è diventato quello che è diventato e che poi ha prodotto già una sorta tra virgolette di sentenza nel senso che comunque la multa da un milione di euro e passa alle due società di Chiara Ferrani e 420 mila euro a Balocco già c'è stata da parte della GCM insomma quindi tanti sono i motivi per appunto dare un'occhiata al libro leggerselo per bene divorarselo e anche quelle cinque pagine insomma sono fondamentali perché si capisce un po' che non è solo appunto marketing non è solo malacomunicazione è forse una gestione che si potrebbe imparare anche appunto da quello che fate giornalmente voi andiamo con un po' di musica poi torniamo ancora qui sempre in diretta con Alberto Mattia con Silvia Gatti con il libro di Silvaggio Lucarelli e con tutti voi che comunque ci potete scrivere come ha fatto ad esempio Nello al 33178 53555 con un semplice laconico ma molto incisivo ciao Silvia quella ecco così semplice allora andiamo avanti con la musica Malika Yann una ragazza Malika Yann è una ragazza 8 e 20 minuti è una ragazza qui al mio fianco si chiama Sido Gatti ah io ragazza grazie Silvia allora stiamo appunto chiacchierando con Alberto Mattia stiamo capendo un po' bene cosa c'è appunto del tuo contributo all'interno di questo libro e che questo libro è ben più di quello che mostra la copertina in un certo senso giusto no? assolutamente perché Ferragnez è per molti gossip e invece Alberto ci dicevi che si può partire da quello che è successo prima a Chiara Ferragni che poi in qualche modo ha coinvolto anche Fedez per parlare invece di come vanno gestite le crisi a questi livelli io sentivo anche comunque il team di Ferragni che ha dichiarato siamo arrivati ad un punto così alto che non avevamo proprio le risorse per gestire tutto il successo tutto il denaro è anche una sorta di ammissione però uno dice pensateci prima cioè crescete così di volume no dico banalmente la voce del popolo pensaci prima assumi un Alberto eh Alberto la facciamo troppo facile noi altri sì allora secondo me innanzitutto una crisi a questo livello questa in teoria è anche una crisi facile da gestire dal punto di vista tecnico non doveva neanche essere una crisi è come dicevi prima sì è un tema diciamo che se trattato indirizzato correttamente non sarebbe mai dovuto essere una crisi appunto quindi bastava una semplice accortezza io dico quando ho fatto diciamo una piccola videorecensione del libro che l'ho letto ho avuto la fortuna di leggerlo in anteprima e ho detto il tema di fondo di questo libro è la superficialità ecco quindi obiettivamente questa superficialità ha poi generato quella che è stata la crisi non male non male perché non di chi l'ha scritto perché di solito è la superficialità di chi scrive il libro invece in questo caso non è la superficialità di chi ha scritto il libro ma la superficialità della storia che c'è dentro il libro perché non è poi sì sì assolutamente delle scelte prese ma come si fa a essere superficiali però con tre società o non mi ricordo quante ne ha due società ne ha due come si fa non lo so io contesto anche non è evidentemente quello il tema ma secondo me non serviva neanche un consulente per forza stai dicendo che fanno schifo e basta nella gestione no no è veramente un caso di superficialità io non ho sentito onestamente la dichiarazione ma se dicono che è stata una mancanza di risorse è chiaramente un falso non si sono accorti che dovevano aggiungere rispetto a come sono partiti non si sono accorti ma infatti secondo me la colpa la colpa è un po' di tutti noi della politica della stampa del giornalismo in generale perché è chiaro che se tu hai ucce umanamente io capisco anche questo atteggiamento per quello dico non è che facciano schifo io non voglio dire questo no era una per dire una battuta capisco la tua battuta però il discorso è tutte queste persone che circondavano Chiara Ferragni non hanno fatto altro che adularla e per tutte queste persone intendo anche i milioni di follower quindi un po' tutti noi i giornalisti le hanno fatto passare qualsiasi cosa molti influencer anche la sua cricca insomma con tutto il rispetto ma non perché facesse necessariamente qualcosa di male però il discorso è interrogarsi sul fenomeno ci siamo tutti sempre interrogati sul fenomeno guardando solo l'aspetto patinato il successo senza però approfondire quando poi io sincero io anche faccio mea culpa nel senso che non sono il target di Chiara Ferragni non l'ho mai ah no non l'ho mai seguito pensavo attenzione non per snobismo perché anche chi dice questo è un libro di gossip non è un libro di gossip evidentemente però c'è chi dice cito la mia amica Vittoria Pietra psicologa psicoterapeuta che avremo prossimamente il gossip è anche un'abilità superiore secondo alcuni interessante questa cosa il gossip non è necessariamente un qualcosa di minore quindi non bisogna essere snob io non è che non seguissi Chiara Ferragni per una questione di snobismo perché sapevo chi era e poi alla fine la seguivo anche senza mettere il follow il follow su Instagram quindi il tema è sempre quello diciamo tutti un po' superficialmente abbiamo visto la punta dell'iceberg senza vedere quello che c'era sotto e nessuno ha mai questionato alcuni modi di fare fondamentalmente ma non li devo questionare io li dovevo questionare forse Fabio Maria D'Amato il manager nonché il migliore amico forse anche noi pubblici dobbiamo piantarla di incensare chiunque faccia qualcosa di buono e bello alla prima volta che lo fa e capire come ci arriva da dove arriva che cosa va e quale sarà il suo progetto di avanti rivendico il diritto delle ragazzine delle ragazze delle signore di guardare solo la cabina armadio di Chiara Ferragni senza pensare dove stia finendo lei quello si la stampa magari no assolutamente certo una ragazzina di 13 anni che segue Chiara Ferragni che colpa può avere che cosa vuoi che gliene freghi chiaro che voglio dire poi sui più giovani senza dubbio ci sono tutte le attenuanti del caso perché poi la responsabilità è degli adulti della società che poi attenzione i più giovani sono quelli però che subito hanno cominciato a dire attenzione i più giovani sono quelli più attenti a volte a certi risvolti infatti spesso parte da loro spesso parte da loro perché secondo me ripeto tutto questo questa come si può dire ossessione di massa che c'è stata verso il fenomeno non verso Chiara Ferragni cioè verso il fenomeno degli influencer poi in generale perché funziona più ampio è un qualcosa che secondo me tra qualche anno verrà visto come adesso vediamo delle cose del passato in prospettiva e diciamo ma come potuto l'ennesima bolla l'ennesima bolla dot com bolla dei bitcoin come potuto succedere e obiettivamente poi secondo me dal punto di vista invece degli adulti secondo me due domande dobbiamo iniziare a farcelo un po' su tutti i fenomeni poi è chiaro che il giornalismo non ha aiutato la politica non ha aiutato perché la politica la sinistra ha preso i Ferragni come un modello per delle cose certamente giuste che loro dicevano sul tema dei diritti civili però non toccavano i temi come dice Selvaggia Lucarelli non voglio appropriarmi di concetti che non sono miei dei diritti sociali dell'aspetto sociale della vicenda quindi in questo libro c'è molto di più del gossip tra virgolette senza voler denigrare il gossip chiaro 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 io sarei anche per il ritorno a lasciamo fare agli influencer certe cose e aspettiamoci altre questioni da altri tipi di personaggi in che senso mi fa ridere quando scrivono sotto ai post degli influencer Emma Gaza Emma la Palestina io sinceramente sentir parlare una Chiara Ferragni una Giulia Salemi di Gaza o Palestina anzi peggio no ragazzi cioè per me no fanno un'altra cosa quando sono scesi tutti in piazza per quando purtroppo è morto un afroamericano quattro anni fa soffocato da polizia esatto sono scesi in piazza anche Chiara Ferragni e Fedez ma cosa volete poi non se n'è più parlato questo è un esempio perché sono cavalcano l'onda secondo me non solo loro ma non sono dei personaggi che veramente si impegnano per delle cause non è un Gali che sappiamo essere da sempre legato a una tematica ad esempio certo ma anche lo stesso Fedez che sembra faccia beneficenza ha ragione Selvaggia Lucarelli quando dice separiamo bene che cos'è la beneficenza dalla beneficenza che però poi dietro ha ben altro in realtà quindi giri di soldi da una società all'altra o no non so vi lo in parole un po' più insomma è un tema complesso su cui secondo me bisogna discutere in maniera molto approfondita io non sono del tutto d'accordo sul dire che diciamo non bisogna parlare di tematiche che non sono propriamente nostre perché comunque quando hai un pubblico come era quello di Chiara Ferragni e Fedez secondo me determinati messaggi devi provare a farli uscire chiaramente non vuol dire poi banalizzare tutto e non lasciar parlare gli esperti però devi avere un'attenzione secondo me sociale diversa da quella che hanno avuto probabilmente loro che invece su determinati temi civili hanno anche fatto delle battaglie volendo diciamo meritorie il punto è capire quanto quelle battaglie erano effettivamente sincere o quanto erano diciamo dettate da un tornaconto e quindi vabbè poi adesso insomma c'è tanto altro confondiamo continuiamo infatti anche qui continuiamo con un po' di musica e poi torniamo qua sempre a parlare appunto con Alberto Mattia e Ferragni ragazzi dove sono? loro non ci sono se vuoi invitali magari chiamati un attimo Selvaggia se può invitarci un attimo andiamo avanti Achille Lauro 1890 Gianna Nannini bello e impossibile e di chi stiamo parlando Silvia? sicuramente non di te dire perché sei interessante ma bello e impossibile apri pazienza sei un tipo sto scherzando dire ti ho detto che anche tu c'hai il tuo se vuoi figura la faccia esatto siamo comunque con una persona seria oggi infatti hai messo la camicia anche tu per quello seria? bella e impossibile vedi? no parlavo di Alberto Mattia no perché domani vado a Londra io volevo dire domani sono a Busto Garolfo però va bene è uguale ognuno ha il suo ognuno ha quello che si merita allora parliamo del libro il vaso di Pandoro di Selvaggia Lucarelli ascesa e caduta dei Ferragni ma c'è molto molto di più da dire perché stacchiamoci da questo concetto del Gossip Chiara Federico i bambini ormai che non si possono più vedere di faccia nelle stories le denunce che sono partite per l'una e per l'altro un casino invece invece il nostro Alberto ci spiega cosa c'è in questo libro che può servire a capire non di più di Chiaro di Federico ma di quello che è successo dal punto di vista un po' imprenditoriale possiamo dire così addirittura noi questa cosa noi poveri mortali comuni che non ne sappiamo nulla di queste cose sembra una roba gigantesca che appare anche un po' contribuito ad esempio al loro imminente divorzio comunque alla separazione invece Alberto dal suo punto di vista esperto appunto di crisi dice ma questa era una cosa che poteva essere benissimo affrontata in un altro modo giusto Alberto? sì allora io ho anche avuto modo di dire che secondo me questo è un libro che dovrebbero leggere imprenditori imprenditrici manager d'azienda perché è quasi appunto un trattato che spiega che cosa non deve essere fatto dal punto di vista della gestione aziendale ancora prima che la gestione della crisi poi secondo me non è da sottovalutare il fatto che in Italia c'è un tessuto economico che in larghissima parte è costituito da piccole e medie imprese e quelle di Chiara Ferragni nonostante i numeri e la popolarità di Chiara Ferragni sono piccole e medie imprese hai visto? mai l'avrei detto? ma non sono grandi aziende dai numeri che ho letto mi pare che avesse tra le due società una sessantina di dipendenti quindi certo è vero si parla di un'azienda medio piccola anzi piccola c'è un'azienda di metallurgia nell'abrianza che hanno ben più di sessanta facciamo un esempio invece di azienda grande le aziende grandi le multinazionali bisogna distinguere tra aziende grandi grandi e grandi aziende grandi aziende anche una piccolissima impresa può essere una grande azienda è ben inteso cioè qua stiamo parlando di termini dimensionali e dal punto di vista dimensionale sicuramente erano piccole aziende quelle di Chiara Ferragni ma come sono piccole aziende la mia ad esempio che è ancora più molto più piccola vogliamo dire come si chiama? Pantarei ecco ma in generale voglio dire più del 90% delle aziende di questo paese sono micro imprese o comunque piccole e medie imprese quindi i temi in qualche modo di gestione aziendale che vengono toccati da questo caso che è molto emblematico la ragione per cui poi c'è un interesse spasmodico rispetto alla vicenda tanti lo considerano eccessivo io non penso che sia eccessivo perché obiettivamente è un fenomeno che riguarda tutti anche chi non segue Chiara Ferragni Fedez perché comunque sono sono stati definiti anche nel libro la royal couple italiana è un po' è vero dal punto di vista mediatico e sociale lo sono stati social anche più che sociale lo sono stati e probabilmente lo sono tuttora per l'interesse indiscutibile quindi senza dubbio è un caso emblematico che ci dà l'opportunità di riflettere non tanto su Ferragni Fedez o sulle società di Chiara Ferragni ma un po' su noi stessi secondo me io il suggerimento che ho dato un po' a tutti è quello di leggere questo libro cercando di riportare tutto quello che viene detto all'interno del libro alla propria esperienza personale e alla propria realtà chiaramente poi mettendo in scala perché poi chiunque di noi ha un pubblico cioè non serve essere esposti sui social media per dire ok ma io tanto non sono Chiara Ferragni non andrò mai in prima pagina sui giornali se faccio qualcosa di sbagliato vero certamente vero per la stragrande maggioranza di noi gente comune però comunque hai non so magari hai dei clienti hai cosiddetti quelli che in gioco vengono chiamati stakeholder portatori di interesse ma sono 40 anni che avevo trovato la lista stakeholder però grazie io mai l'avevo sentito in 40 anni è una roba complicatissima banalmente sono chiunque abbia un interesse nei confronti della tua attività i congiunti i prossimi congiunti ma in realtà anche i competitor sono degli stakeholder no? cioè perché comunque voglio dire hanno un interesse in quello che fai tu poi è un interesse magari confliggente nel caso dei competitor ma sono degli stakeholder quindi il discorso è tutti noi abbiamo degli stakeholder o dei portatori di interesse quindi senza essere chiara fornami e fedez è importante tutelare la propria reputazione è importante agire correttamente è importante vedere anche i rischi in quello che fai perché io l'ho scritto anche nel piccolo contributo che ho dato al libro dai non dire piccolo sono cinque pagine sono pregne di significato spero pregne di significato aggiunte dopo fra l'altro quindi non avevo letto quando ho dato il mio contributo ho risposto ovviamente alle domande quindi non avevo letto il resto però cioè diciamo quello che volevo dire è che appunto all'interno diciamo di questo contenuto ho cercato di far passare determinati messaggi che sono poi quelli di una sana e corretta gestione dell'azienda una sana e corretta gestione e dimensionamento dei rischi per cercare di capire come comportarsi io credo personalmente alla buona fede di Chiara Ferragni in principio nel senso che sono convinto che lei non avesse l'intenzione di truffare per stare diciamo sul filone di lei sapete che è indagata per truffa aggravata non è ancora nemmeno rinviata a giudizio bisogna chiarire però credo al fatto che lei non volesse anche comportarsi in maniera scorretta dal punto di vista commerciale nonostante lei sia già stata multata per questo però effettivamente quando poi qualcuno ti fa notare che può essere frainteso un determinato tipo di atteggiamento che stai comunicando in una maniera molto ambigua e che quindi in qualche modo stai portando avanti un tuo interesse in maniera se non necessariamente illecita in maniera impropria e inappropriata lì secondo me devi metterti in dubbio no? cioè chiunque di noi deve ascoltare le critiche perché questa è una storia che fa capire come gli yes men e gli yes woman di cui si sono circondati Ferragni in particolare di cui si riempiono tantissime aziende tantissimi manager ma assolutamente ma assolutamente poi riportando in scala cioè ci sono casi molto più rilevanti che hanno seguito le stesse logiche e fa capire come poi il giornalismo d'inchiesta secondo me è un antidoto alle crisi ed è una risorsa per le organizzazioni cioè un falso mito quello che il giornalismo d'inchiesta possa far male a un'organizzazione cioè se un'organizzazione mantiene un approccio corretto alle questioni di cui si occupa vede il giornalismo d'inchiesta come vedi non so gli audit le grandi aziende hanno queste funzioni di audit adesso senza entrare nel tecnico però sono funzioni indipendenti che verificano il rispetto di politiche norme regolamenti eccetera eccetera la traduco le recensioni su TripAdvisor ti fanno paura solo se il tuo ristorante fa schifo ho capito perfettamente poi è chiaro che c'è il problema delle recensioni come c'è il problema del giornalismo fatto male però non dovresti avere paura di farti guardare in casa se tu le cose le fai bene se tu sei a posto certo chiarissimo poi se nascondi le riviste quelle del porcellone nell'armadio non lo fai vedere agli altri post al market eh appunto questo fa capire io che ho capito il riferimento perché siamo vecchi perché post al market no post al market è troppo vecchio anche per noi ma non sembra tu hai fatto in tempo ok ok confesso io ho una curiosità posso adesso o prima partiamo con la musica no prima partiamo con la musica ascoltiamo un pezzo ascoltiamo Max Gazze poi andiamo con le tue domande tieni tra lì va bene Max Gazze con il farmacista alle 8 e 43 minuti qui su Cristian Radio Good Morning Milano Max Gazze con il farmacista la questione ferragne la questione soprattutto della gestione delle crisi mi riporta a una piccola crisi che sta avendo in questi giorni in città dopo il caso Rovazzi dopo il finto furto del cellulare dove appunto devo dire che non so se hai visto il filmato a me il dubbio che fosse un po' finto mi era avuto fin dall'inizio però vabbè insomma così e poi soprattutto quello che mi ha lasciato sconvolto sono le scuse non scuse di Fabio Rovatti dicendo non pensavo che mi successe così di mano la stampa non ho pensato alla politica sindaco Sala Nero sindaco Sala Nero Maran che era l'assessore nero pure lui cioè come è possibile che succedano ancora cose del genere con dei livelli insomma non solo un'influenza c'è un'azienda sì ma allora secondo me c'è un tema di inconsapevolezza adesso non voglio entrare troppo nel tecnico usare inglesismi per fare il figo come si suol dire ma sei figo fai tranquillo che ne sai ne sai decisamente no però su questo puoi quando parliamo di gestione delle crisi c'è un diciamo un passaggio fondamentale nella gestione della crisi che è la situational awareness cioè la come si può dire in italiano la comprensione di quella che è la situazione cioè devi essere consapevole con la consapevolezza di quella che è la situazione e in un momento storico come questo quando è uscito questo libro ma in generale c'è un'inchiesta ancora se vogliamo aperta sul tema Chiara Ferragni sugli influencer su quel modello perché come ho detto questo non è un'inchiesta solo su Chiara Ferragni quindi in questo momento storico che un altro influencer peraltro poi già legato a Fedez per storia amici poi litigio eccetera hanno fatto pace eccetera però una figura del genere comunque molto in vista adotta un comportamento che è diverso per certi versi da quello che è stato il comportamento contestato a Ferragni e Fedez ma che comunque fa discutere e attira un'attenzione su di sé in un'ottica pubblicitaria perché poi era una trovata pubblicitaria denigrando una città in qualche modo qui secondo me il tema non è neanche politico non è neanche che dice non aveva pensato alla politica qui il tema è proprio sociale cioè non puoi non puoi sfruttare in qualche modo un problema serio come quello dei furti il degrado cittadino che peraltro poi spesso viene ingigantito ai fini di polemica politica per promuovere una tua attività commerciale e trarre non profitto senza pensare che poi ma non è tanto il sindaco Sala o l'assessore Maran che si arrabbiano ha detto in maniera va bene va benissimo diciamo il fatto di capire che stai dando un messaggio sbagliato cioè queste persone che come Fabio ha detto sono aziende ma anche se non sono considerate aziende c'è un tema di responsabilità sociale la responsabilità sociale di impresa se anche sei un individuo che fa impresa individualmente hai comunque una responsabilità sociale e far passare questi messaggi o utilizzare questi mezzi secondo me è molto poco edificante soprattutto poi rischia di essere un boomerang grosso in un momento storico in cui adesso c'è stato un po' qualcuno ha detto il re è nudo e quindi si sono un po' risvegliate le coscienze su questo tema ma quindi un Rovazzi non ha dietro qualcuno che gli dice Asco non farlo perché poi o invece ha dietro qualcuno che gli dice fallo 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 oppure ti propongo io questa idea Rova vai io trovo anche scandaloso che lui ha detto ho fatto una Rovazzata quando ormai qualsiasi cosa che facciamo la personifichiamo quindi adesso ti do un calcio nel sedere Silvia e poi dico eh no ma ho fatto una ranfata cioè sono come le Cassanate ho capito ma Cassani l'aveva fatta un po' non mi vengono in mente chissà cosa che abbia fatto Rovazzi per arrogarsi anche il diritto di prendersi questo sostantivo no vero ma poi in generale secondo me non va neanche bene poi fare la marachella tra virgolette e chiedere scusa dopo cioè va bene una volta va bene due volte però se poi diventa uno schema se poi diventa uno schema la gente si rende anche conto è uno schema non basta chiedere scusa bisogna non arrivare a fare certe cose perché poi anche le scuse comunque non sono abbastanza possiamo andare avanti un attimino perché c'era una curiosità allora Chiara Ferragni è stata un po' vogliamo dire scaricata banalmente un po' volgarmente da molti dei suoi sponsor diciamo via BV si defilano non ci sono più comunque ho sentito ho letto il titolo perché figurati se leggo l'articolo io dovevo fare la lavastoviglie che Chiara Ferragni questo è un tema effettivamente poi la nostra vita è quella roba lì quindi leggiamo i titoli e via non avevo voglia in quel caso leggo il Financial Times è stata scaricata anche da una società che si stava occupando di risanare la sua immagine o è sbagliato dire così? Allora non ho informazioni dirette quello che poi se avessi cliccato il titolo e letto l'articolo poi dentro l'articolo sembra che sia stata ripeto da notizia di stanza di stampa una decisione presa di comune accordo quindi poi chiaro che nel titolo fa molto più effetto dire è stata scaricata da poi secondo me non lo so non lo so se sia vero pare che sia stata leggendo in maniera un pochino più approfondita una decisione presa di comune accordo io ho un'idea diciamo molto forte dicela dicela poi no nel senso che secondo me allora in primis la società di cui stai parlando se ne si può dire perché è community di Europa Lomba che tanto è stato insomma lui stesso ha anche fatto un'intervista su Sette a gennaio mi pare sul tema Chiara Ferragni e diciamo che secondo me c'è stato anche un po' di se vogliamo di opportunismo nella gestione di tutta la situazione da entrambe le parti perché evidentemente Europa Lomba è un esperto di comunicazione molto ben introdotto inserito sicuramente anche di grande successo di grande competenza sul tema della comunicazione io contesto il fatto che secondo me non è un esperto di crisis management nel senso che nel senso che peraltro se guardate il sito di community non si vendono come esperti di crisis management attenzione loro dovono ripulire l'immagine esatto loro sono degli esperti di reputation management e di comunicazione poi hanno anche una practice di comunicazione nella crisi il punto è che la regia nella crisi non può essere affidata a degli esperti di comunicazione così come non può essere affidata ad esempio a dei legali deve essere affidata a qualcuno che ha una trasversalità di approccio io questo dico e ben inteso che non sto dicendo che loro si siano venduti però le notizie di stampa hanno parlato di questo super consulente che coordinava la crisi secondo me non era non era lui o comunque la società che doveva coordinare diciamo la crisi in questo modo e forse se ne sono accorti entrambi non lo so questo non lo so perché ovviamente non conoscendo la relazione all'interno non posso giudicare ma voglio anche precisare perché sennò sembra che sto tirando l'acqua al mio mulino avrebbe dovuto prendere un consulente di crisis management in realtà secondo me poteva anche non prendere un consulente detto proprio e lo dico contro i miei interessi non essendo una crisi secondo me arci difficile da gestire posto che i consulenti di crisis management ve l'ho detto già la volta scorsa quando sono qui ospite il crisis management parte dalla prevenzione e dalla preparazione quindi 90% del nostro lavoro si fa prima nel momento in cui si verifica una crisi puoi prendere qualcuno che ti supporta naturalmente però chiaramente il beneficio è molto marginale lì ci doveva essere qualcuno al fianco di Chiara Ferragni o Chiara Ferragni stessa o comunque nel suo entourage il management delle società che doveva capire e diciamo con una consapevolezza diversa sull'importanza della gestione della crisi coordinare tutte le tematiche trasversali la mia impressione che si siano mossi parlo di Chiara Ferragni e delle sue società in maniera un po' disordinata e disorganica tra gli aspetti di comunicazione da un lato ad esempio gli aspetti legali dall'altro perché comunque anche dal punto di vista legale al di là delle inchieste in corso delle indagini della multa della GCM anche alcuni comunicati che i legali hanno fatto uscire in considerazione ad esempio dell'interruzione del rapporto con Pigna faccio un esempio se vi ricordate Pigna ha abbandonato diciamo Chiara Ferragni e pubblicamente diciamo ha scritto un comunicato parlando dell'interruzione del rapporto e il team di legali di Chiara Ferragni ha risposto sostanzialmente con una diffida minacciando poi una causa eccetera allora fermo restando il pieno diritto da parte di Ferragni e delle sue società di far valere appunto i propri interessi nelle sedi competenti dal punto di vista secondo me comunicativo mediatico bisognava coordinare un po' di più gli aspetti e cercare una collaborazione con tutti gli stegolzer mi sembra che forse qui più che trovare un consulente serviva a fare una bella squadra ma con poi magari qualcuno che prima che chiunque prendesse una gestione dicesse fermi tutti allora se lui fa questo cosa succede ma è una cosa che avviene però secondo me appunto normalmente cioè avviene in famiglia so come dire mi verrebbe in famiglia ragazzi mi hanno proposto un lavoro a Berlino ok ci andiamo non andiamo e sì ma il piccolo Giacomo come fa a fare la scuola allora sentiamo è vero banalmente sì la gestione della crisi è buonsenso solo che buonsenso in inglese si dice common sense e gli inglesi dicono common sense is not so common allora ce ne siamo accorti noi in pandemia aver fatto il buonsenso e ognuno ha il suo buonsenso ne usciremo migliori ma infatti il discorso è proprio questo cioè siccome è una disciplina che si applica al buonsenso il buonsenso poi è difficile da mettere in campo soprattutto quando sei molto sotto pressione sì è vero metodi che in tempo di pace nella calma di uno studio radiofonico adesso ci sembrano banali mi rendo conto che poi banali non siano nel momento in cui devi effettivamente gestire la crisi però appunto questo denota mancanza di preparazione mancanza di consapevole gli ha cazziati tutti Alberto no ma fa bene perché poi mi fa ridere che sono gli stessi gli influencer che poi però fanno yoga meditazione e tu dici saranno delle persone centratissime che tutto il giorno hanno il completino da sponsorizzare e invece poi allora alla prima vanno fuori di testa in un attimo cioè io li capisco ma la verità è una pressione che guarda io anche che faccio questo lavoro sulle crisi mie io avrei bisogno di un consulente aiutate Alberto Mattino nel senso che e poi è sempre quando tocca a noi è sempre più difficile quindi io umanamente è vero io umanamente capisco tutto e ripeto noi probabilmente ma anche lì Chiara Ferragni non è che sia un'imprenditrice di scarso livello necessariamente lei probabilmente non ha mai voluto fare l'imprenditrice non si è mai curata di quegli aspetti perché poi fare l'imprenditore l'imprenditrice naturalmente è un lavoro a tutto tondo lei ha sicuramente altre qualità perché ovviamente le qualità ce l'ha questo tipo di seguito e questo tipo di successo che ha avuto però sai lei ha venduto una narrazione in particolare se vi ricordate a Sanremo l'anno in cui c'è stata quindi non quest'anno l'anno scorso in cui ha caricato molto l'aspetto ma già anche prima di quel Sanremo lì del fatto che lei era un'imprenditrice digitale non un influencer l'ha usata lei la parola imprenditrice quindi lei o comunque è nato questo termine lei è un po' la pioniera è stata un po' la pioniera diciamo ha iniziato più di dieci anni fa quindi era una una via ancora un pochino da scoprire ecco lei è andata per prima mettiamola così forse un merito che tutti possiamo comunque dare se esiste questo sistema se esiste questo mestiere diciamo che un po' se l'ha inventato anche lei sicuramente sicuramente nel mondo non solo in Italia ma che lei abbia dei meriti è fuori discussione certo non è il punto signori quando ci si diverte il tempo passa e quindi sì siamo arrivati alla fine chissà se Alberto tornerà mai qui con noi ancora dopo questa non credo quando mi chiamate è contento non si sa come è contento non si sa perché deve avere una crisi interiore veramente grazie Alberto Mattia grazie a voi grazie Fabio per avermi avuta qui anche questo venerdì ah no pensavo dicevo grazie per avermi invitato anch'io no pensavo no vabbè sai ti ringrazio sempre grazie mille Silvia basta stai qua tu basta noi ce ne andiamo va bene ciao buon weekend sigla 9.00 ritardo anche oggi Ambrogio Curti non me ne farà passare neanche una ebbene sì dopo di noi Ambrogio Curti consenti questa grazie ancora ad Alberto Mattia e Silvia Gatti per essere qui con noi in studio questa mattina grazie a tutti voi che ci avete ascoltato da casa noi ritorniamo quindi la faccio veloce oggi ritorniamo domani no ritorniamo lunedì perché oggi è venerdì thanks girl it's Friday e quindi ritorniamo lunedì quindi domani non ci siamo ricordate domani è sabato e non ci siamo ma lunedì alle 7 qui in diretta alle 7 alle 9 come sempre tutti i giorni da lunedì al venerdì con Good Morning Milano in diretta su Cristal Radio Milano News e poi c'è il podcast insomma potete ritrovarci quando e come volete grazie mille ancora buona giornata a tutti e buon weekend adesso Ambrogio Curti ciao Oh